La maggior parte delle persone non sa gestire le proprie entrate ed i propri guadagni perché di fatto nessuno ci ha insegnato come gestire il denaro che guadagniamo, come gestire il denaro che abbiamo. Nessuno infatti ci ha mai insegnato come gestire i nostri soldi. A scuola non esiste una lezione dedicata ad imparare ciò che in realtà ci servirà per tutta la vita, ovvero la finanza. Sono queste le prime frasi che si possono leggere nel libro Come creare molteplici fonti di reddito di Robert Allen. Trovi il link del libro in descrizione. Ma in questo video non voglio parlarti del libro, ma di un concetto che ho molto a cuore, ovvero della gestione del denaro e di come creare molteplici fonti di reddito. La lettura di questo libro nel 2016 ha cambiato radicalmente il mio approccio alla gestione del denaro e soprattutto alle modalità con cui riuscivo a generare un guadagno, alla creazione di nuove fonti di reddito. Ed oggi voglio condividere con te alcune informazioni che per me sono estremamente utili e alcuni spunti che ritengo molto interessanti. Prima però ti chiedo di iscriverti al canale ed attivare la campanella per supportare la crescita di questo canale. Subito dopo la sigla invece parliamo di gestione del denaro e di come creare molteplici fonti di reddito. Come dicevo prima, a scuola nessuno di noi impara come gestire il denaro, impara a creare molteplici fonti di reddito, impara l'argomento finanza personale o finanza in generale. Eppure la finanza personale e la gestione del denaro sono argomenti o materie estremamente importanti per la vita di ognuno di noi. Anche Robert Allen all'interno del suo libro parla di questo argomento e dice che la finanza, la gestione del denaro dovrebbe essere un argomento da inserire in tutti i cicli di istruzione. E spiega che effettivamente dovrebbe essere una delle materie obbligatorie. Come facciamo dunque noi ad imparare ciò che sappiamo sul denaro? Ecco, tutto quello che noi impariamo sul denaro in realtà lo impariamo in diversi modi. Per esperienza personale, osservando i nostri genitori, oppure ascoltando quello che ci dicono i media, che siano televisioni, che siano i social network, che sia internet, che sia la carta stampata o la radio, o magari che siano dei video su YouTube. Osservando i nostri amici ed imitandoli, oppure attraverso tentativi ed errori. Ognuno di noi fa esperienze con il denaro, acquista qualcosa e poi magari si pente di averla acquistato. Oppure investe i soldi in qualcosa e magari perde tutto il capitale investito, oppure riesce a guadagnare da quel singolo investimento. Ognuno di noi di fatto impara quello che sa sul denaro in base all'esperienza e a ciò che ascolta, che vede o che magari è stato in qualche modo trasferito in maniera inconscia proprio grazie agli atteggiamenti e comportamenti sul denaro visti dai propri genitori, familiari e amici. Come spiega Robert Allen, il modo in cui gestiamo le nostre finanze può essere il sostegno della nostra serenità o il veicolo migliore per le nostre ansie e preoccupazioni. E proprio per questo ci sono persone che vivono in uno stato d'ansia perenne. Secondo alcuni esperti, infatti, il denaro influisce non solo sulla nostra vita personale, ma anche sulla nostra sfera sentimentale. Sembrerebbe infatti che molti divorzi sono dovuti proprio a pareri o ad atteggiamenti discordanti sulle questioni finanziarie da parte della coppia. Ecco perché ognuno di noi dovrebbe in realtà studiare il denaro, studiare la finanza personale, imparare a capire il denaro e soprattutto imparare a capire come generare, conservare e investire il denaro. Secondo Robert Allen esistono tre sorgenti di prosperità. Queste tre sorgenti sono la montagna degli investimenti, la montagna del marketing e la montagna degli immobili. Queste tre montagne, dice Robert Allen, possono di fatto generare soldi e produrre fino a dieci flussi di entrate differenti. Questi flussi di entrate chiaramente andranno ad accrescere quello che è il nostro patrimonio. Perché però ognuno di noi dovrebbe pensare di creare molteplici fonti di reddito e interessarsi all'argomento di gestione del denaro? La risposta è molto semplice. Prova a pensare quante famiglie conosci che oggi possono vivere degnamente con un solo stipendio, con una sola persona che porta a casa il reddito per tutta la famiglia? E quante invece hanno bisogno di almeno due fonti di reddito all'interno dello stesso nucleo familiare? Secondo alcuni studi inoltre, in futuro non basteranno più neanche due fonti di reddito per sostenere lo stile di vita che ognuno di noi ha e vive quotidianamente. E proprio per questo motivo tutti dovremmo pensare e costruirci molteplici fonti di reddito. Il concetto che dobbiamo avere chiaro è che dobbiamo creare molteplici fonti di reddito per assicurarci un futuro migliore. Dobbiamo avere dei piani B, dei salvagenti, delle alternative nel caso in cui uno di questi flussi di denaro che abbiamo creato per qualche motivo si esaurisse. E prima di tutto ciò però dobbiamo imparare a vivere spendendo meno di quello che guadagniamo. Fin quando noi spenderemo più di quanto guadagniamo non riusciremo mai a creare molteplici fonti di reddito. Quindi il primo passo è sicuramente spendere meno di quanto guadagniamo. Questo significa che finanziamenti, prestiti, mutui sicuramente ci mettono in una condizione di svantaggio. Perché di fatto dobbiamo spendere, dobbiamo pagare quelle errate e sempre più spesso le persone si indebitano oltre ciò che possono. Ovvero contraggono dei prestiti, dei finanziamenti per acquistare cose che magari non sono beni primari o beni indispensabili. Una volta imparato quindi a spendere meno di ciò che guadagniamo dobbiamo imparare ad investire in maniera oculata le eccedenze. Dobbiamo quindi evitare di indebitarci e costruire una certezza, una sicurezza economica per il nostro futuro. Alcuni studi dimostrano che la maggior parte delle persone non è sufficientemente responsabile da mettere da parte qualche spicciolo per lunghi periodi di tempo. E proprio per questo alla fine rimandano continuamente il momento in cui cominceranno ad investire. Ecco perché sono nate anche diverse app e sistemi che permettono di creare dei salvadanai digitali e di risparmiare mese dopo mese. Ho parlato ad esempio in questo canale di Oval Money, una piattaforma che ti permette di crearti un piccolo salvadanai digitale di risparmiare e di investire una parte dei tuoi soldi. Per migliori informazioni trovi in descrizione il link ad Oval Money e nelle schede qui sopra trovi riferimento a questo video. Sembrerebbe inoltre che la quantità di denaro investita è meno importante della costanza con cui ci dedichiamo all'investimento stesso. Di fatto non è importante quanto investiamo, ma quanta costanza mettiamo nell'investire, quanto riusciamo a risparmiare giorno dopo giorno. Torniamo però all'argomento gestione del denaro e in particolare all'argomento creazione di molteplici fonti di reddito. In questo video infatti voglio raccontarti come io stesso ho approcciato l'argomento e come io stesso ho pian piano costruito molteplici fonti di reddito. Ma soprattutto come giorno dopo giorno cerco di creare nuove fonti di reddito, nuovi flussi di entrate per la mia attività. Il mio lavoro principale è il web marketing ed in particolare l'affiliate marketing. Se non sai di cosa si tratta in descrizione troverai alcuni articoli di approfondimento che ho scritto riguardanti proprio il mondo dell'affiliate marketing. Pensaci ho cominciato a fare affiliate marketing nel 2008 e negli anni mi sono reso conto di alcuni fenomeni ricorrenti. Le campagne disponibili nel mondo dell'affiliate marketing possono variare nel tempo, possono fermarsi, possono riprendere, possono cambiare il payout, magari possono non convertire come convertivano una volta. Concentrarsi su una sola nicchia di mercato è rischioso perché se per caso quella nicchia ha un problema, se magari è una nicchia stagionale, ci sono dei periodi dell'anno in cui si hanno dei cali anche molto importanti. Bisogna infine imparare a differenziare le piattaforme con cui si lavora. E in questo modo slegarsi alla singola piattaforma non dipendere da una sola piattaforma ed avere più piattaforme con cui si lavora. Di fatto quello che ho fatto è creare molteplici fonti di entrate dall'affiliate marketing, ma l'affiliate marketing è una sola fonte di entrata, una sola fonte di reddito. Una seconda fonte di reddito invece deriva dalla mia laurea in pianoforte. Sono infatti un maestro di pianoforte ed all'interno della mia agenda settimanale ho inserito delle ore da dedicare proprio all'insegnamento del pianoforte. Ecco perché settimanalmente do alcune lezioni di pianoforte. Per me di fatto questo è un modo per mantenere da un lato il contatto con il pianoforte e dall'altro avere una fonte di reddito completamente slegata dal mondo dell'online marketing, dell'affiliate marketing e del web marketing. Nel 2015 ho inserito fra le mie fonti di reddito altre due attività differenti. Il network marketing, se non sai cosa trovi in descrizione un link di approfondimento che ti spiega cosa è il network marketing e come funziona. E il self publishing. In pratica ho scritto e pubblicato da solo il mio primo libro tramite Amazon e dopo sei mesi ho pubblicato un secondo libro che vengono venduti direttamente da Amazon e che mi permettono di guadagnare delle royalties per ogni copia che viene venduta nel tempo. Quindi io ho impiegato del tempo per realizzare questi libri, li ho messi online e questi libri continuano a vendere nel tempo generandomi di fatto una rendita passiva, un piccolo guadagno passivo nel tempo. Ogni volta che qualcuno compra uno dei miei libri io ricevo un guadagno, una royalties. Dal 2017 inoltre ho deciso di lavorare con alcuni clienti selezionati ed offrire consulenza di web marketing per aiutarli a crescere online. Quest'anno sto lavorando per creare ulteriori fonti di reddito, altri flussi di entrate. Ho creato il mio primo video corso legato al blogging che spiega a chiunque come creare un blog professionale da zero in due ore. Sto lavorando per far crescere questo canale su YouTube e quindi guadagnare dalla monetizzazione all'interno di YouTube. E per farlo sto pubblicando una serie di contenuti legati al mondo del business online, del web marketing, della crescita personale, della finanza personale, del travel e del lifestyle. Ho fatto inoltre un investimento in un immobile per trasformarlo in un immobile da affittare a turisti e di questo vedrai gli aggiornamenti nei prossimi mesi, spero, su questo canale. A questo punto potresti pensare che io abbia avuto qualche aiuto per fare tutto quello che sono riuscito a realizzare. O potresti pensare che io sia partito avvantaggiato. In realtà sono partito semplicemente da un computer portatile ed una connessione di internet. E ricordo ancora i primi anni in cui ho cominciato a lavorare online che mio padre mi sequestrava il computer perché pensava che spendessi e sprecassi troppo tempo davanti al computer levando tempo al pianoforte e all'università. Tutto questo video l'ho realizzato per dirti che se davvero vuoi migliorare la tua finanza personale, se davvero vuoi imparare a investire il denaro, se vuoi creare molteplici fonti di reddito, dovresti studiare e imparare e mettere in pratica quanto più possibile sull'argomento. Personalmente ti posso dire che da 2015 leggo costantemente libri dedicati al mondo della finanza personale e della gestione del denaro. Leggo biografie di personaggi famosi e cerco di applicare nel mio piccolo quello che imparo leggendo questi libri, studiando queste vite di questi personaggi o magari vedendo dei documentari e dei film su questi argomenti. Oltre allo studio e alla formazione però è molto importante agire, mettere in pratica quanto si legge, quanto si studia, quanto si vede, pianificare il lavoro e le attività ed essere focalizzati per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Ora, non pensare di poter creare tutto in poco tempo, di poter raggiungere la libertà finanziaria o di poter creare molteplici fonti di reddito dall'oggi al domani. Se hai ascoltato attentamente questo video o se hai ascoltato il podcast che deriva da questo video, probabilmente ti sarai reso conto di come io stesso ti abbia raccontato di come io sia riuscito a creare molteplici fonti di reddito negli anni. Non le ho inserite tutte insieme nelle attività che facevo ma pian piano ho cercato di aggiungere sempre qualcosa di nuovo. E il percorso per creare molteplici fonti di reddito non è un percorso in discesa, anzi è un percorso in salita. Richiede pianificazione, richiede programmazione, richiede focus. Bisogna avere l'abilità di concentrarsi su quelle singole attività fino a quando non si raggiunge un punto che ci permette di dedicarci a qualcos'altro mentre quell'attività non torna indietro. Quindi dobbiamo cercare di consolidare ciò che stiamo facendo e man mano aggiungere dei pezzettini. Il percorso per creare molteplici fonti di reddito è un percorso in salita pieno di errori, di sbagli, di cadute. Dobbiamo avere la capacità di rialzarci, la capacità di non mollare, di essere resilienti e perseveranti. Spero che questo video ti abbia ispirato almeno un po' sull'argomento di gestione del denaro, sull'argomento creazione di molteplici fonti di reddito o sull'argomento finanza personale. E spero anche di leggere un tuo commento qui sotto con le tue riflessioni o magari con le tue domande, con i tuoi consigli, con le tue opinioni su questo argomento. Ti auguro dunque un buon percorso nella creazione delle tue molteplici fonti di reddito e ci vediamo, se vorrai, sempre in questo canale. Grazie Grazie Grazie